Chiara Ferragni, da influencer a star del cinema? Benvenuti su Daily Gossip Scoop. Oggi parliamo di una delle figure più seguite e discusse del panorama digitale italiano, Chiara Ferragni. La vita della celebre influencer e imprenditrice è sempre sotto i riflettori. E non mancano mai i colpi di scena. Dopo la recente separazione dal rapper Fides e lo scandalo del Pandorogate, Chiara sembra pronta a voltare pagina e a intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura nel mondo del cinema. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Chiara Ferragni ha attraversato un periodo decisamente difficile. La sua immagine è stata compromessa da diversi scandali, tra cui il Pandorogate, che ha causato una perdita di popolarità su Instagram. Si stima che abbia perso una media di 1700 follower al giorno, e molte aziende hanno scelto di interrompere le collaborazioni con lei. Questo ha messo a dura prova la sua reputazione di imprenditrice digitale di successo. Ma Chiara non è tipo da arrendersi facilmente. Un nuovo inizio. La proposta di Yerbolino and Lady Picardi Entertainment. Nonostante le difficoltà, una nuova opportunità si profila all'orizzonte per Chiara. Secondo alcune indiscrezioni, la casa di produzione cinematografica Yerbolino and Lady Picardi Entertainment le avrebbe offerto diversi copioni per film e serie TV. Andrea Yerbolino, il fondatore della società, ha visto in Chiara un potenziale non ancora esplorato e ha deciso di darle una chance di brillare sul grande schermo. Dal web al cinema, il nuovo capitolo di Chiara Ferragni. Pur non avendo esperienza nel mondo del cinema, Chiara Ferragni potrebbe trovare in questa nuova avventura una strada per rilanciare la sua carriera e riparare la sua immagine pubblica. Yerbolino ha offerto a Chiara ruoli in vari progetti, tra cui un docufilm sui fratelli Maserati e addirittura un film biografico sulla sua vita. Questa potrebbe essere l'occasione perfetta per mostrare al mondo un nuovo lato di sé e per dimostrare di essere molto più di una semplice influencer. Andrea Yerbolino ha dichiarato di vedere in Chiara Ferragni il potenziale per diventare una stare internazionale del cinema. Con il suo carisma e la sua determinazione, Chiara potrebbe conquistare il grande schermo e riaffermarsi come una nuova icona del cinema italiano e internazionale. La sua capacità di reinventarsi e di adattarsi a nuove sfide potrebbe rivelarsi un grande vantaggio in questa nuova avventura. Chiara Ferragni potrebbe presto debuttare sul grande schermo, conquistando il cuore del pubblico con la sua versatilità e il suo talento. Questa nuova direzione potrebbe rappresentare una svolta significativa nella sua carriera, offrendo nuove opportunità e sfide. Dopo i guai degli ultimi tempi, il cinema potrebbe essere la piattaforma perfetta per Chiara per dimostrare di cosa è veramente capace. La storia di Chiara Ferragni è tutt'altro che finita. Nonostante le difficoltà, Chiara ha dimostrato di avere la forza e la determinazione per affrontare nuove sfide e per reinventarsi continuamente. Il suo possibile debutto nel cinema è un capitolo emozionante che tutti noi aspettiamo con ansia di vedere svilupparsi. Restate sintonizzati su Daily Gossip Scoop per seguire tutte le novità su Chiara Ferragni e le sue avventure nel mondo del cinema. Grazie per averci seguito. Non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti.